E carissimi amici e amiche, voglio rifare anche un breve aggiornamento per il caso che stiamo trattando da qualche giorno di Stefania Rota, questa donna, 62 anni, di mapello, trovata morta in casa, in circostanze misteriose, perché questa donna innanzitutto, come sapete, è stata trovata dopo oltre un mese dalla mostra, perché conducendo una vita così riservata, nessuno si era accorto della sua assenza. Alla fine si forza la porta chiusa, chiave, doppia mandata, si trova questa donna ancora con il cappottino, scarpe, quindi una donna che o stava entrando o stava uscendo di casa e sempre con qualche ferita alla testa, a terra, sembrava un malore, poteva essere un malore. Una donna che entra, si chiude dentro e poi, prima di liberarsi dalle sue cose, ha un malore, cade, sbatte pure violentemente la testa. È uno scenario che ci sta, però non ci sta quando le chiavi con le quali ha chiuso la casa a doppia mandata, non si trovano più, quando il suo cellulare non si trova più, quando la sua autovettura non si trovava più, e quando la sua borsa anche non si è trovata più. Poi la macchina, come sappiamo, è stata ritrovata in un parcheggio a poche centinaia di metri da casa, un parcheggio nella pubblica strada. Quindi il mistero si è infittito e si è parlato di omicidio. Ora, come accennato ieri, è emersa la figura di un uomo, un uomo misterioso. Un uomo misterioso che frequentava casa sua, seppur sporadicamente, praticamente, però quest'uomo c'entra in qualche modo. C'entra perché più testimoni hanno detto di questa frequentazione, anche per strada. Quindi la stranezza dove sta è che se anche non c'entrasse niente quest'uomo, o certamente in tv si sarebbe reso conto che si parla di questa disgrazia, no? E quindi spontaneamente, se non c'entra niente, si sarebbe dovuto presentare dai carabinieri in polizia per dire, mostra questa amica mia, ho sentito dalla tv, non ci vedevamo da un po' di tempo, e chiarire la posizione. Invece questo silenzio è già il silenzio stesso che è indice di sospetto, di grande sospetto. Poi li hanno visti, ma tante persone li hanno visti, anche spesso passeggiate insieme. Qualcuno ne ha fatto addirittura l'identikit, che è all'esame degli organi inquirenti. li hanno visti un paio di volte anche nei pressi del santuario di Prada, è una località là vicino, e il fatto che l'autovettura sia stata passeggiata lì vicino, e a testimonianza è stata anche un paio di volte spostata da lì, quindi usata, chi poteva usarla? Chi fosse stata una rapina di un valoso che non so come era entrato in casa, non avrebbe fatto certamente tutto ciò, né tantomeno si sarebbe preso la borsetta, il cellulare e altro. Il rapinatore fa rapina di quello che trova e scappa via. Quindi, quest'uomo misterioso, credo proprio che abbia un ruolo. Abbia un ruolo e chi è quest'uomo misterioso? Perché non si fa avanti? Vedete, è un uomo che ha avuto un ruolo importante nella vita di Stefania, tanto è vero che da indistrezione si dice che, fra le altre cose, Stefania accudeva un anziano che aveva in animo, nel mese di marzo, di regarsi in Liguria da suoi parenti e voleva quindi essere accompagnata da Stefania, che rifiutò questa cosa qui, proprio, dice la famiglia di questo anziano, perché? Perché riferì che non poteva accompagnare la persona in Liguria perché doveva andare con un amico. Quindi doveva andare. Quindi per questo amico lei aveva rinunciato a fare questo accompagnamento, quindi a quello che era un po' il suo lavoro. E quindi, ecco perché, soprattutto il cellulare non si trova, non si trova perché dal cellulare, senza altro, ci sarebbe stata traccia di questo uomo misterioso, con i numeri di telefono, i vari tipi di chiamati, spostamenti, quindi lì c'erano le sue tracce e doveva sparire. Ma come pure, ci sono tante telecamere intorno a questa villetta, quindi lui penso che sia anche molto lucido perché ha voluto far trascondere del tempo prima che il cadavere fosse scoperto affinché le immagini delle telecamere venissero sovrapposte dopo un certo numero di giorni, vedete? Anche la stessa posta, la pubblicità che si mette quasi ogni giorno nelle cassette, lui andava lì, si presume lui, a togliere queste pubblicità, queste cose dalla cassetta della posta per dare l'idea ai vicini che la casa fosse abitata da Stefania che andava a togliere, a prendere questa posta che veniva depositata la mattina. Vedremo un po' che cosa uscirà dalle analisi scientifiche, dal DNA, che insomma, alcuni DNA che certamente verranno trovati in casa. il problema è che anche se escono questi DNA trovati in casa e che non è che abbiamo una banca di DNA nazionale e bisogna sempre vedere se si riesce in qualche modo ad avere un indizio in più che possa ricondurre alla identità dell'uomo misterioso. Si parla di un identikit ma è ancora troppo poco. è passato troppo tempo l'autopsia parla di una morte intorno al 10 marzo 5-6 giorni in più 5-6 giorni in meno quindi comunque oltre un mese è passato un po' troppo tempo. Purtroppo mancano le chiavi manca il cellulare auto spostata secondo me spostata è anche lavata o lavata più volte per far scomparire per far scomparire le tracce c'è chi parla come ho riferito ieri di una tannica di aver visto una tannica all'interno dell'auto che poi non c'era più forse o sui avrò pensato anche di incendiare la macchina per maggior sicurezza ma poi ce l'ha ripensato perché ecco adesso ci si chiede se si possa trattare ancora di morte naturale ma gli elementi per essere morte naturali non ci sono più quindi siamo in attesa di sapere se gli inquirenti riescono a trovare tramite l'identikit o tramite qualche testimonianza più riservata la traccia per quest'uomo che certamente ha avuto un ruolo un ruolo importante in questa situazione perché se così non fosse quest'uomo si sarebbe dovuto già fare avanti per chiarire la sua posizione quindi anche su questo caso ci risentiamo a più presto e grazie sempre dell'affetto con il quale mi seguite ciao a tutti grazie a tutti